Selvaggia Lucarelli, secondo alcuni, starebbe favorendo il suo compagno, Lorenzo Biaggiarelli, a Ballando con le stelle. Ormai sono ben sette anni che la Lucarelli svolge il difficile ruolo di giurata nel fortunato programma Rai, condotto da Millie Carlucci. Sotto accusa sono finiti i voti che Selvaggia ha dato al suo amato chef che, è bene chiarirlo, non sono altissimi, ma nemmeno bassi. Vediamo, dunque, qual è stato il ragionamento seguito da alcuni che hanno insinuato una sorta di favoritismo, da parte della giurata, nei confronti di Lorenzo. Nella prima puntata, Selvaggia Lucarelli ha dato al suo concorrente del cuore un timido 6, forse aspettandosi delle probabili accuse da parte del pubblico. Nelle votazioni successive, Selvaggia Lucarelli si è sbilanciata un po' di più, premiando Lorenzo Biaggiarelli con un 7. È stato notato anche che, agli altri VIP in gioco, la giurata ha continuato a dare voti piuttosto bassi, per cui ciò ha contribuito ad alimentare cattivi pensieri. In particolare, alcuni utenti del web si sono scatenati nel mettere a confronto le esibizioni di Luisella Costamagna, Giampiero Mughini e quelle del fidanzato della Lucarelli. Selvaggia Lucarelli, tuonano sul web, la Costamagna infortunata balla meglio del tuo fidanzato. Selvaggia Lucarelli è apparsa inflessibile nei confronti della situazione di Luisella Costamagna che, in seguito ad un infortunio alla caviglia, è stata sul punto di lasciare il programma. Quest'ultima è stata spronata dai giurati Simone Di Pasquale e Rossella Erra, per cui ha deciso di fare uno sforzo, esibendosi in una baciata. Ebbene, Selvaggia ha giudicato un paio di esibizioni della Costamagna, dandole zero, per poi, premiarla, con un, non classificato. Alcuni utenti social hanno confrontato i voti dati da Selvaggia Lucarelli alla Costamagna con il 2 rifilato a Mughini, piuttosto, legato, nei movimenti in pista. Selvaggia, io ti adoro, ma qui sbagli. Costamagna si è mossa più di Mughini, e poi, è vero, lui ha 80 anni ma lei non ha caviglia. Pari. Si legge altresì, la Lucarelli, l'unica a dare zero alla Costamagna e non dare 10 a Montesano come tutti. E dovremmo pensare che non sia una strategia per far avanzare il suo fidanzato? Va precisato, ad onor del vero, che non ci sono prove sul fatto che la giurata intenda favorire il suo amore, per cui si tratta di illazioni. Selvaggia, la Costamagna infortunata balla meglio del tuo fidanzato. Fattene una ragione, si vede troppo che rosichi. Fattene una ragione, ha commentato qualcuno sul web. Un utente ha rimproverato la Lucarelli per non aver tenuto conto dell'infortunio di Luisella Costamagna, punendola, con i voti. La Costamagna ha la sofferenza che le si legge in faccia. Non devi darle il massimo dei voti, ma almeno vota il sacrificio che sta facendo. Pessima. Avere il fidanzato a Ballando e un'arma a doppio taglio per Selvaggia Lucarelli, in quanto non ha fatto altro che alimentare una grande polemica nei suoi confronti. Leggi anche, GF Vip. Eleonore Ferruzzi torna sui social, ma esplode la polemica, colpa di una foto, non doveva pubblicarla.